9 maggio 1921 nasce Sofì Scholl, studentessa e antifascista tedesca. La Scholl è un'attivista del gruppo antinazista della Rosa Bianca ed è il simbolo della resistenza non violenta al RAI. Sofì viene fermata il 18 febbraio del 1943 mentre all'università di Monaco distribuisce volantini contro il nazismo. Interrogata dalla Gestapo viene giudicata colpevole di tradimento. Muore ghigliottinata il 22 febbraio 1943.